Un'egemonia ed un riconoscimento criminale talmente elevato da rendere obbligatorio l'omaggio da parte della processione della Madonna dell'Arco. I carabinieri del nucleo investigativo del gruppo di Castello di Cisterna hanno dato esecuzione ad un decreto di fermo di indiziato di delitto emesso dalla Procura Distrettuale Antimafia di Napoli a carico di Andretta Salvatore e Andrea, padre e figlio, rispettivamente di 60 e 37 anni, entrambi residenti ad Acerra, raggiunti a vario titolo da gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati di tentato omicidio, estorsione continuata e detenzione illegale di armi, tutti aggravati dalle finalità e modalità mafiose. Nello specifico, l'attività investigativa condotta dai carabinieri attraverso un diffuso impiego di intercettazioni telefoniche ed ambientali, nonché di metodi tradizionali, quali telecamere attive H24 e servizi di osservazione e riscontro, ha permesso di documentare la piena operatività del sodalizio criminale operante ad Acerra, del quale Salvatore Andretta è esponente di vertice. In particolare, gli Andretta sono considerati i mandanti o comunque gli istigatori del tentato omicidio di D'Agostino Emanuele avvenuto ad Acerra nel 2021 a causa di un contrasto dovuto al controllo del territorio legato allo spaccio di sostanze stupefacenti.